Papa Francesco, rivolgendosi ai partecipanti alla conferenza internazionale convocata nel terzo anniversario della pubblicazione della lettera enciclica Laudato Si, ricorda che il vertice sul clima in programma in Polonia a Katowice nel dicembre prossimo può essere una pietra a miliare nel cammino tracciato dall'accordo di Parigi del 2015. Tutti sappiamo che molto deve essere fatto per l'attuazione di quell'accordo. Tutti i governi dovrebbero sforzarsi di onorare gli impegni assunti a Parigi per evitare le peggiori conseguenze della crisi climatica. La riduzione dei gas, serra, richiede onestà, coraggio e responsabilità soprattutto da parte dei paesi più potenti e più inchinanti. Anche le istituzioni finanziarie, aggiunge il Papa, hanno un importante ruolo da giocare. È necessario uno spostamento del paradigma finanziario al fine di promuovere lo sviluppo umano integrale. Le organizzazioni internazionali, come ad esempio il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, possono favorire riforme efficaci per uno sviluppo più inclusivo e sostenibile.